Siamo a Piano Battaglia, provincia di Palermo, siamo qui per capire che cosa serve, obiettivamente manca tanto. Siccome qui le competenze sono in parte dei comuni, in parte del Parco delle Madonie, in parte della città metropolitana di Palermo, dell'ex provincia e in parte della regione siciliana, ho assicurato il nostro intervento che è anche di coordinamento affinché si vari un progetto per la riqualificazione dell'area, costerà diversi milioni di Euro, avremo una riunione la prossima settimana per cominciare a mettere mano a questo benedetto strumento di programmazione con l'ambizione che il volto di questo contesto possa essere del tutto diverso, razionale. Grazie a tutti!